Zone balneari si popolano e la pressione dell'acqua scende, Siam interviene d'urgenza a razionalizzare i consumi. Siam, la società che gestisce il servizio idrico a Siracusa, informa che in questi ultimi giorni sono registrati elevati consumi idrici relativamente al serbatoio Plemirio. L'aumento della popolazione e delle attività che comportano l'utilizzo della risorsa idrica nelle zone di Plemirio, Isola e Minaretto ha fatto crescere notevolmente i prelievi di acqua, abbassando sensibilmente il livello del serbatoio, con conseguenze dirette sulla pressione idrica. Per tale ragione si rende necessario e urgente intervenire da subito con una serie di parzializzazioni delle portate in uscita dal suddetto serbatoio. Si avrà cioè nelle zone sopra citate una razionalizzazione dell'acqua per i prossimi tre giorni esclusivamente nella fascia oraria che va dalle 23 alle 6 del mattino successivo. La procedura inizierà stasera alle 23, sarà ripetuta anche domani sera e un'ultima volta mercoledì sera sempre fino alle 6 del mattino seguente. L'obiettivo è quello di garantire il raggiungimento del livello necessario affinché nel fine settimana, quando le presenze aumenteranno ancora, non si verifichino abbassamento della pressione idrica.